Ragazzi, siamo in diretta dalla festa patronale di Maria Santissima del Soccorso Con Rosaria, i modelli, Ciro Pistino, Giuseppe Boccaccio Giuseppe Luigi Annetti, Associazione Tradizione Piente, Il Festacchione Qui San Severo, il granito di gente, siete pronti? Uno, due, tre... LUNALE! Anzi, iscriviti qua, Antonio, Antonio, iscriviti qua, Carlo San Severo, facciamoci vedere, sulle mani, sulle mani, San Severo Con il nostro Giuseppe, che è il fatto di girare il cambio Con Roberto Ferrari, è nella Bulgaria Noi ci vediamo sul canzone dell'Associazione Tradizione Piente di San Severo Ragazzi ancora a tutti, sulle mani Un ragazzo, incontro una ragazza Un ragazzo insieme, incontro una ragazza San Severo Un ragazzo, incontro una ragazza La notte poi non passa, la notte se ne va Un ragazzo, una ragazza Sì, facciamo un applauso al presentatore ufficiale Anzi, c'è il permetto di un applauso Grazie San Severo e grazie all'Associazione Il Festacchione e grazie ancora a tutti voi Ciao!